Musica Salve a tutti amici, sono MrDelleric e benvenuti qui con me a una nuova puntata di Rome 2 Total War Ragazzi, io sono molto contento perché vi vedo veramente partecipi in questa campagna La cosa veramente mi emoziona tanto che ho paura veramente di far cazzate eccetera Nonostante voi mi dite sì sono bravo eccetera Però sono anche inesperto su molte cose di questo gioco perché secondo me veramente il tutorial è stato fatto con il culo Cioè uno che mai si è approcciato a un Total War poteva essere utile quel tutorial lì Però non è che ti spiegano delle cose diciamo un pochino più approfondite Ecco non esiste un tutorial avanzato diciamo così che un pochino mi è mancato Però allora io ho seguito dei consigli o meglio voglio seguire dei consigli che voi mi avete scritto nei commenti del video precedente Tra cui per esempio a Cartagine mi avete detto guarda smantella questa cazzo di campo di addestramento che ti serve a poco o a niente Visto che comunque arcieri o altro non li potremo fare se non in Libia mi avete detto In Libia o anche a Creta se non vado errato Ecco questa è una cosa che un po' mi dispiace forse manca un pochettino In Roma il fatto che ci siano gli arcieri Bisognera ebbe vedere e che non so come si faccia Come cazzo fare i... Sì aggiungere le mod diciamo ecco Bisognerebbe aggiungere le mod Per mettere sti cazzo di arcieri un po' ovunque perché sarebbe un pochino più realistico Ma comunque vabbè per il momento non importa mi informerò quando sarà necessario Allora tra l'altro qualcuno di voi mi aveva anche suggerito di fare il punte di navi il puntile di navi Adesso non ho ben capito ma non ho ben capito tra l'altro se intendeva che lo facessi a Cartagine o dove Allora io al momento sto facendo la banchina a Lilibeum Ma proprio perché è inutile avere in due città tanto vicine due porti uguali A meno che non siano dei porti tipo commerciali o pescherecci perché magari uno ha bisogno di tanto cibo O di entrate di denaro commerciali Già avere a Lilibeum una banchina o comunque adesso la potenzieremo quanto più possibile È già più che sufficiente in questa zona io direi Vediamo un po' qui avevamo se non sbaglio Ce la facciamo Sì sì allora Siracusa già è commerciale Direi che qua abbiamo tutto fondamentalmente Allora a Cartagine mi è stato appunto consigliato di smantellare quindi il campo di addestramento E di fare un qualche cosa di tipo commerciale o che mi desse insomma altri soldi Che siano qualcosa di industriale piuttosto che qualcosa di culturale Adesso comunque vedremo cosa avremo a disposizione Vediamo un attimino ecco noi qui eravamo alle prese ragazzi con una nuova battaglia Allora qui noi abbiamo fatto se non ricordo male appunto una nuova spia Che adesso dovremo aspettare il prossimo turno E avanzeremo adesso fino a qua Tra l'altro avevo sollevato una questione E ancora vedo che è piuttosto confusa questa questione per quanto riguarda proprio gli arcieri Perché molti mi dicono che bisogna portare al terzo livello il poligono di tiro Per sbloccare gli arcieri Onestamente non lo so Molti mi dicono che bisogna portare al terzo livello questo Oppure che bisogna costruire il poligono di tiro appunto in Libia o a Creta Lo vedremo perché lo porteremo sulla prossima ricerca magari che facciamo Tra l'altro io non ricordo minimamente Ecco sì La prossima ricerca che facciamo magari sarà proprio quella O comunque punteremo a fare questa perché voglio delucidazioni quanto prima In merito Perché ecco E bisogna ricercare esercitazioni tattiche Vediamo dove caspita è Allora Ovviamente non ho presente Non è qui Esercitazioni tattiche Eccolo qua Cinque turni Prossima cosa che faremo sarà sicuramente questa E vedremo E vedremo Allora Ragazzi facciamo immediatamente lo scontro Contro i breuci E gli facciamo Direi che assolutamente gli dovremo fare il culo Questo ha già fatto la sua azione Direi di sì Ecco una cosa un po' che mi dispiace È che abbiano mantenuto la lingua La lingua inglese americana Uh allora ecco vabbè Devo dichiarare guerra Ovviamente Anzi scusatemi Diplomaticamente parlando Chi è che ce l'ha già con i breuci Vediamo subito Allora Vediamo subito come siamo messi Allora Voi Ecco siete già in guerra con i breuci Noi stiamo commerciando Però non abbiamo altre tipologie di patti Mi pare di vedere Per cui Quello che farei io sarebbe sicuramente Un bel patto Allora dove cavolo è Transito militare Papapapapa No patto di non aggressione Già ce l'abbiamo è vero Dimenticavo Eccolo qua Scusatemi Allora io direi di fare Una Dichiarare guerra a cartagine No allora Le mie offerte Sono queste Cioè di Combattere contro i breuci Ok Vorrei Il transito militare In modo tale che In un futuro Non si sa mai Poi Anche perché gli aridei non è che credo mi possano Potremmo fare Un'alleanza difensiva No ma contro chi siete in guerra Se no ancora Vabbè gli schiavi Ma quello è Ci sta Allora Sono in buoni rapporti Ma li vedo prudenti e fedeli No io direi che una bella alleanza difensiva Con questi ci possono stare Vediamo Hanno rifiutato Ok Allora facciamo una cosa di questo tipo Io parteciperò comunque Alla guerra contro i breuci Non ti chiedo di combattere contro cartagine Perché E allora facciamo Un bel transito militare E siamo per il momento a posto Ok Tu adesso puoi andare a cacare Fammi vedere un attimino questi Anche questi sono in guerra contro I breuci Però non possiamo commerciare Perché 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 sono stupidi Perché Non so perché Questi Non sono in guerra contro i breuci Tutti gli altri invece sì Anche questi sono in guerra contro i breuci Abbiamo già Un alleato È già il nostro alleato difensivo Allora Potremmo anche farlo diventare uno stato cliente Se per caso Dovesse Allora Facciamo così Noi facciamo Alleanza militare Transito militare Rompi il patto di nulla Nulla commercio Alleanza militare Dichiarare guerra per anticipare la guerra contro No perché Ah già la sto facendo Sono già in guerra Hai ragione Se io dovessi fare Stato cliente Eh mi pareva Era perché la prima volta è che lo sto a fa Rodi Non sono in ottimi rapporti con Rodi Però Vorrei provare a proporre Ecco Il patto di non aggressione Già non accetterebbe L'accordo commerciale Anche Che test di cazzo Io vorrei Anche darti i soldi Dai proviamo a vedere Allora facciamo un bel L'accordo commerciale E ti pago Offro un pagamento Così potrebbe essere moderata Vediamo Ecco Allora vai a fare in culo Perché Più di così Non intendo darti I suoi Vi sarebbero Lai in cima Allora Non ci interessano Bene o male Sono in rapporti Abbastanza buoni Con tutti Tranne con la Libia Che ovviamente Adesso potrei anche Conquistare abbastanza Serenamente Visto che Ci serviranno Gli arcieri Questi non hanno mai voluto Commerciare con noi Ma ci proviamo Adesso Accordo commerciale No vedi E' proprio basso Gli stiamo sul cazzo Con i breuci Adesso siamo in guerra Con cartagene Siamo in guerra Ok Gli elvezzi Come siamo messi Che patti abbiamo Con loro Anche il patto Di non aggressione Ok Va bene No no D'accordo Ok Allora Adesso Dovremmo Poterci permettere Di andare A rompere il culo E ci andiamo Cazzo Oh bene Allora Non voglio macchine Da sedio Se possibile Vabbè No ma queste Già ce le ho Per cui Ci combatteremo Non importa Li dovrei Sgominare Abbastanza facilmente Allora ragazzi Noi ci vediamo Sul campo di Combattimento Il campo di battaglia A presto Intanto Clicchiamo E andiamo Eccoci ragazzi Allora Siamo Nel campo di battaglia Vedo che Non abbiamo effetti negativi E' tutto asciutto Per cui potremmo Iniziare lo schieramento Che due coglioni Ragazzi Mi ero scordato Un'altra Un'altra città murata Questa Ed è un'altra Rottura di palle Allora E' un'altra Rottura di palle Anche se Ho imparato Molte cose Dalla battaglia Di cartagine Perché Potremmo Distruggere Facilmente Le Le mura E le torri Con le macchine D'assedio Allora Io Guardando così Il territorio Direi che Ci potrebbe essere Più semplice Entrare O da questo punto O da quest'altro Il fatto è che Tireremo Anzi Dovremmo tirar giù Assolutamente Anche se qua C'è quest'acqua Che rompe un po' Le palle Questo cazzo Di laghetto Di merda Allora Facciamo da qua Così abbiamo più spazio Per poterci muovere Con le unità Anche di cavalleria Qua c'è più spazio E io direi che Entreremo da qua Vedremo di fare Un po' di piazza pulita Adesso che abbiamo Delle macchine Da sedio Mobili Di fare Piazza pulita Soprattutto Mi sono dimenticato Di far partire Il tempo Di far Piazza pulita Soprattutto Delle torri E delle porte Allora No ecco Già così Già così Non andiamo d'accordo Qui stai facendo Tutto a cazzo di cane Allora Qua ti voglio Così E le baliste Le mettiamo Qua così Ok E queste saranno Le nostre Armi principali Per sfondare Tutto Poi Mettiamo I nostri Veliti Come sempre Io Generalmente Tendo a metterli Davanti E dietro Tutti quanti No allora Tutti quanti Davanti Per dar modo Alle unità Da tiro Di Lanciare Le loro armi E poi ritirarsi Lanciare In questo caso Allora I legionari I legionari Che sono Le unità Di fanteria Base Che questo esercito Conta Li mettiamo Un pochino Più indietro Ecco Già però Queste cazzo di cose Non me ne faccio nulla Io Farei così Allora Scusatemi Li sposto Un attimo Qui Mettete giù Per favore Ok Ritornate Un attimo Qua Adesso Vi rimetto Un attimo Informazione Ragazzi Scusatemi Ci perdo Un pochino Di tempo Ma Ok Perfetto Poi Abbiamo Due unità Di cavalleria Cavalleria Ausiliaria E equites Gli equites Che sono Abbastanza Cazzuti Da quanto ho capito Mi par di capire Allora Li mettiamo Ovviamente Ai lati Uno da una parte E gli altri Dall'altra Il nostro Generale Dietro a tutti Però ci manca La nostra Fanteria Quella un pochino Più tosta Diciamo Ecco Allora La mettiamo Qui dietro Li raggruppiamo Che così Ok Allora Questo schieramento Ci servirà adesso Per poter entrare Vedremo Di far fuori Sia queste Mura Che questo Torre In modo tale Che almeno In questa zona Saremo abbastanza sereni Iniziamo la battaglia Prendiamo Gli onagri Subito Addosso Ma potevo dire Il vero dire A tutti Di iniziare a sparare Con grande allegria Il nostro Comandante Che sta facendo Il suo discorso Allora Allora Io sto tenendo Ovviamente I colpi normali Perché credo Che siano un po' Più efficaci Contro Mura E quant'altro Dopo li Muteremo In fiamme Anche se Non mi dispiacerebbe Per esempio Già qua Iniziare a cambiare Con un po' Di fiamme A dire il vero Ci sono già I nostri Onagri Che possono far Dello sporco lavoro Senza fiamme Non so Se facciano Più male Ma In questo modo 83 Dai che stiamo Sfondando 92 Ok Ma io continuerò In perterrito Perché ho bisogno Di Di sfondare Le torri Danni da fuoco Danni normali O speriamo Che le torri Si che si danneggino Anche per il fuoco Bello Bello Mi piace Peccato che non hanno Così tanti proiettili Come io vorrei Togliamo I Togliamo I proiettili Di fuoco Vedo che Danni da fuoco Non è il massimo Perfetto Così limitiamo Limitiamo Di molto I danni Eh Così Limiteremo Veramente Tanti Danni Mamma mia Cosa Cosa ne Faremo Adesso Poi Di questi Guarda 49% Già con Una sola Selva Di colpi Buono Buono Andata Andata Ok Adesso Con le nostre Con i nostri Onagri Andiamo A Smaltire Un pochino Le unità Di terra Mentre con Le balliste O le balliste Scusatemi Smaltiamo Un po' Ah scusatemi Avevo messo In pausa Le no Le Le loro unità Da tiro Vediamo Orcocan Sono scomparsi Voglio sperare Vabbè Qui dovrò Lanciare Un po' A caso Adesso Perché Quelle Sono Sono Scomparse Anche se Credo di aver Fatto Parecchi Morti Ah no Sono Ricomparse Va bene Ok Allora Di nuovo Su di loro Cazzo Sto sfondando Praticamente Tutto Sì Sì Correte Correte Pa 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 Credo di aver fatto Parecchio male Le loro unità Le loro unità Da tiro Bella 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 Ok Allora Vediamo Qui stiamo soltanto decimando un pochino Perché così almeno c'è un po' più semplice Finché non finiscono i proiettili Direi che Ma perché deve colpire per forza sto angoletto Non possono sparare fin qua Ah ok 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 Vedo le mucche Vedo le mucche Allora Ritorniamo un po' di pietre Perché vedo che qua Serve a poco Ste cazzo di vacche Arrivano pezzi di vacche ovunque Ma Boom Ecco Questo è morto per una mucca in faccia Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni Ok Allora Che è questa Facciamo un altro po' di fuoco qua Ok Ma non capisco perché sparano solo da questo angolo E non qua il centro Cazzo Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni Ok C'è solo questa Adesso Ok Abbiamo decimato parecchio direi Queste unità che erano qui Ora io prenderei La nostra fanteria La comincerei a muovere in avanti Non vorrei fargli fare la quick march però Però vorrei fargli fare una bella testugine Allora Gli facciamo avanzare fino a un certo punto magari Cosa dite Anche voi Magari vi faccio avanzare Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni Vabbè purtroppo non è andato tutto Tutto a buon fine No troppo Ok Così Allora quando saremo a un certo punto ovviamente faremo la testugine Una testugine offensiva Di modo che Le unità da tiro per il momento le teniamo a distanza Perché altrimenti sarebbero bersaglio Di inutili colpi da parte di questi stronzi E io avrei intenzione proprio la fanteria pesante Di mandarla poi a prendere questi stronzi qui Questi li potrei addirittura ritirare ma penso che per il momento Tu avanza lì ma non perché Tra l'altro vediamo un pochino Ecco adesso mi gira anche un attimino più fluido Perché ho diminuito un pochino le caratteristiche grafiche Che bello Qua potrò fare a breve Ok allora State pronti che fra un po' si entra in testugine offensiva Ok Ragazzi è arrivato il momento Voglio che stiate belli tranquilli e sereni sotto i vostri scudi Che nessun proiettile possa passare A recarvi danno Fatto questo Prendiamo le due unità centrali E diciamo di andare incontro Al centro Questi invece Li diciamo di recarsi Qui Sperando che attraversino la breccia Questi invece li andremo a dare di supporto E li teniamo magari Un po' qui più indietro Mentre anche voi sarebbe il caso che mi andaste in testugine Iniziano ad attaccarci con i proiettili Sono anche proiettili infuocati Reggiamo un pochino di più i colpi Ragazzi Attenzione Cominciamo Bene Devo dire Perché non Stiamo cedendo Per il momento Siamo ancora 120 su 120 Oh questa testugine Devo dire Sta Dando i suoi frutti Molto bene Hanno smesso di fare la testugine Avanzano Cazzo che tosti che sono Ragazzi questi Ok Ci facciamo sotto Ah è pieno lì di Di stronzi Molto bene Allora È il caso di Andare All'attacco Non più in testugine Offensiva Togli la bella testugine Perché ormai è finito Il momento Cruciale Diciamo Allora Andiamo a dar manforte Nel frattanto Spostiamo I nostri Veliti Fino a qui E anche Di buona lena Insieme Al nostro Generale Cavalleria La teniamo Qua di riserva Eventualmente Oh stiamo facendo Un buon lavoro Stanno ritirandosi Signori Stanno ritirandosi Continuiamo a seguirli Schiacciamoli Se possiamo Schiacciamoli Allora Dov'è la nostra Cavalleria Uno E due Avanti Cerchiamo di farli Entrare Allora Noi adesso Dobbiamo fare Un po' di attenzione Perché Rischieremo Vedo che infatti C'è la torre Che sta facendo Qualche morto Tra le nostre fila Ma non importa Dov'è la nostra Cavalleria Eccola Formazione E attacco Avanti Allora Velity Ma io per il momento Li lascerei anche lì A dire il vero Generale Allora Ah ok Vittoria Vittoria Termina la battaglia Ragazzi Non dovremmo aver subito Abbiamo subito Pochissime perdite Sono stati veramente Cazzuti Questi Questi nostri Legionari Fantastico Fantastico Allora Eccomi qua ragazzi Scusatemi Ma mi era morta La videocamera Per cui Scarica L'ho dovuta Un attimo Mettere in carica Finiamo questa Registrazione Allora Guardate Abbiamo subito 20 perdite Cioè Il minimo storico Praticamente Per un assedio Di questo tipo Su una città murata Abbiamo fatto 1161 morti In realtà 1027 uccisioni Cioè ragazzi È stato Un ottimo combattimento Abbiamo giocato bene Le nostre carte Io credo che Le macchine da sedio Hanno fatto Un gran lavoro Adesso finalmente Ho capito Qui non c'era L'olio D'accordo L'olio bollente Non erano mure Pesanti Non erano mure Molto grosse Però Adesso che so Che è possibile Tirare giù Le torri Eccetera Che è possibile Distruggere meglio Le torri E le porte Adesso È sicuramente Molto Molto più semplice Oltre al fatto Che abbiamo distribuito Molto bene Le unità Devo dire Che Il fatto che Hanno un'armatura Molto pesante Avete visto Abbiamo Affrontato Eccolo lì Guarda Che cattiveria Abbiamo Affrontato Devo dire I Sì Lanciatori Le unità Da tiro Degli avversari Ecco Gli schermagliatori Scelti Che nonostante Avessero utilizzato Dei proiettili Infocati Non ci hanno fatto Un morto Fintanto che Non siamo arrivati Sotto E anche Quando siamo arrivati Sotto Ci hanno fatto 20 morti Ragazzi C'è niente Praticamente niente Allora Ovviamente Occuperemo La città Abbiamo fatto Una quantità Poi di morti Con una Delle Delle macchine D'assedio Che è Incredibile Il nostro Generale Arriva Al grado Al grado 3 E quindi Vediamo subito Una nuova Abilità Da dargli Allora Un 15% Al bonus Carica Tutte le unità Più uno All'autorità Classica Più uno All'astuzia Sì ma questo è per la flotta Non mi interessa nulla Allora Più due Allo zello No Bisogna che iniziamo a fare Anche questo qui Ok Perfetto Allora Gli edifici qui sono da rifare Praticamente Tutti Per cui Ecco allora Già come industria Produttore di anfore Più 100 Quindi alla ricchezza Derivante dalle attività Produttive Più 5% La ricchezza Derivante Dall'agricoltura Più 10% La ricchezza Derivante Da tutto il commercio Oppure Meno 5% Il costo di costruzione No Io sono sempre Per le anfore Perché è un qualcosa Che va avanti di più Nel tempo Le costruzioni Prima o dopo Finiscono Il commercio In realtà No Allora Altre cose A livello militare Vabbè Perché in questa regione Non abbiamo nulla In realtà Ah Dunque No Qua devo proprio Smantellare Perché Non abbiamo Il costruttore di Tegole Cioè devo proprio Smantellarla Questa cosa Va bene Intanto però abbiamo Dato un durissimo colpo Perché questa città Per loro Era La capitale Per cui È stato fatto Un ottimo Un ottimo Un ottimo Lavoro Allora Sono molto contento Devo dire Di questa Di questo scontro Allora Adesso potremmo Passare il turno Vedere cosa succede Prossimo turno E decidere Poi Il da farsi Allora Fine turno Ok Ricerca Completata Abbiamo completato Il sodalizio Un grado Un grado aumentato Di un veterano Cazzo Grado 6 Tutti i veterani Si sono Sono aumentati Di grado Hanno scoperto Vabbè Matrimonio Allora Una famiglia propone Un matrimonio Ma no Ma a me va bene Cazzarola Ma quanto Cazzo Cioè Quanto costa Uno sposo Cioè Ma Oh Ma rimani Single Ma ti conviene Cacchio Più 15 Senatori Guarda te Che cazzo Mi costa Intrigo politico Si è sviluppato Un nuovo Intrigo politico Vabbè Allora Stavamo dicendo Il nostro veterano Qua di terzo livello Dunque Ok Ti do questo Poi dobbiamo scegliere Abbiamo detto Eccolo qua Di sviluppare Questa tecnologia Allora Popolazione travagliata Eh Abbiamo capito Che la popolazione Travagliata Ce ne vorrà qua Prima che ritorni Ad essere Ad essere Ottima Allora Qui noi adesso Possiamo fare Una suburbia Un tempio Potremmo fare In realtà Per migliorare La romanizzazione Ma anche Un acquedotto E io sarei più puntato A questo In realtà Perché aumentiamo Anche la crescita Per turno Che non mi dispiace Vada per l'acquedotto Mi avete convinto Vaffanculo Agli dei Allora Truppe arruolate Pretoriani Dove? Ah si Giusto qua sotto Ma aspetta Che avevo anche Troppa roba da fare Questo turno Allora Tu No No Non tu Tu Ok Bisogna aumentare Il grado Anche di questo Ehm Pfff Più 8% Morale Addestramento Più 60 Cazzo Questo qui Che mi fai diventare Le truppe Veramente Delle Delle Cose Inverosimili Allora E' il caso Che cominciamo Ad andare a guardare Cosa succede Qui di sotto Ci mandiamo Anche Il nostro Gabino Maledetto Gabino Allora Una fazione Si unisce alla guerra Vabbè Scazzi vostri Rapporto di costruzione Oh abbiamo fatto La banchina Cazzo abbiamo Più 0 adesso C'è solo Allora Però aspetta Ho visto Che c'era Qualche cosa Da poter Costruire Qua Allora Ecco Qui per esempio Potremmo fare Anche qui Il discorso Dell'acquedotto Oppure fare Un altro Foro pubblico Allora Fare un foro pubblico Significa che Qua abbiamo già fatto La scuola gladiatoria E ok Foro pubblico Però lo potremmo Far andare In qualche Altra direzione Dai Vada per questo Mi hai convinto Qua facciamo Qualcosa di culturale Romanizziamo In maniera Pesante Epire cartagine Guerra dichiarata Vabbè Non me ne frega Molto in realtà Anche perché Di cartagine Rimane solo Ed esclusivamente Questa cosa Che adesso Verrà messa Ferro a fuoco In maniera Violentissima Ok Ok Facciamo una cosa Qui abbiamo Qui abbiamo già Abbiamo già costruito In maniera Te invece Attenzione 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 Tipo spostarla Come sempre Come sempre Spero che il gameplay Vi sia piaciuto Se avete altri suggerimenti Mi raccomando Qui sotto Nei commenti Come sempre Io vi invito A iscrivervi anche Alla pagina di facebook A mettere un bel mi piace Sia su questa pagina Che alla pagina di facebook Iscrivetevi E a presto ragazzi Ciao ciao